Musica Musica What are we talking about No ta ha Ci porta il tuo equipaggiamento E qua ci porta Il chiave Però io l'iprazione che avevi viene Prima di tutto dobbiamo salire Aspetta Aspetta, non usare... Ok, male Minchia Non ci ho visto, non ci ho visto, non ci ho visto Ora Buttalo giù, perfetto Minchia, casinino Non è che è la chiave Ma la chiave è là, che sono scemo Vabbè, prendi Alla chiave E perché ci diceva che lo dico io Se te l'ha trasportato sicuro Il tuo agente operà 69 metri, ci andiamo Io direi di sì E dai sto parlo Anche perché, cazzo, pistola, palestra, un sacco di cose E ma da dove? Ecco qua Non ci arriva Ma ci arriva, ci arriva, ci arriva E dai Aspetta Ah, ok, eravamo... Allontani 3, 2, 1 Salta Sì Ok Dai Le tacco, le punta Non è una scala questa, no Quanto è buona la Toras Eh, vai Anche meglio dentro Ottimo 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 Vavine Bene Dobbiamo scendere o... E io non lo capisco Aspetta un attimo No, non c'è una porta, una cazzo di porta Allora sali Guarda su, guarda su E qua La dottorina che dice che dall'alto si vede tutto Ma io... Vai, vai, scendi qua Aspetta, perché là c'è un flusso di luce che... Che cacchio è? Cosa cazzo è quello? Wow, wow, wow Ma spara veleno Vai su questa grata Vai su questa grata Che cazzo, che cazzo, che cazzo Che cazzo è una pestata Che merda Ehm... Ok Fai... Ammaccio il tasto così per cambiare i poteri? Abbiamo due di ma... Due di salute e uno di mana Ah beh, andiamo Dobbiamo scendere C'è picchi di paventi Dai, eh No, però, salta Te vede un po'... Ma fammi vedere la situazione, salta Che c'è il tizio che ci vuole ammazzare Salta Siamo morti! No, no, no Non siamo morti Non siamo morti, c'è l'acqua Cazzo Non vedo niente Non vedo niente Non vedo niente Non vedo nulla Cazzo, come ti cura? Da cosa siamo stati uccisi da quel tizio? Da quel cazzo là Minchia, mi confondevo con... Con Bioshock Mi curavo con CTRL Cazzo Minchia, dovevo far iniziare, puttana l'eba Dalla chiave, penso Aspè Eh, infatti La chiave l'abbiamo presa Vai Perfetto Ah, bravo E' una nuova che cazzo c'è Non è che cazzo se ne fa volte, dai Andiamo Puoi correre Ok Eh, sali, sali Sì Fatti po' Mmh Eh, però non di male se ne va Infatti Cioè andiamo palazzi palazzi o... No, il problema è scendere Scendere, scendere Oh, dobbiamo tuffarci oppure va avanti Salta, 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 salta con la corsa Aspetta, prendi la mira Vai, vai, vai Tranquillo, vai Tu sal... Corri Eh, da dove vuoi andare in questa cosa? No, no, no Corri Ah, ok Qua, perfetto Oh, è cosa di dove mi saluta Venti Topo, topo, fatti in macchia Mamma mia Il mitragliatrice Fatti in topo E' passata là sotto No, no, no Uccidere Ok No, volevo romprella Ok 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 Minchia Ci sono le guardie Ottimo, corri, corri Veloce... Ah no Che schifo Non sono guardie Sono appestati Sì, sono guardie Ah no, tutti appestati No, queste guardie sono Sono vestiti Ma bastati Vabbè, pure gli appestati sono vestiti Da guardie Com'è qua? Aspetta, datti un'occhiata E sono qua, dai Veloce, veloce, veloce Vabbè, vai alla raffinaria di Graves Graves, Graves Ecco, eh Il nostro queggiamento è la valigia che ha buttato giù Ok Dai, guarda, prendiamo la prima ragione Beh, perché non laggare Perché va così Stabilizza il piano Ok Minchia, stai stanzamente Dai, ma non puoi dirci Che cazzo Che cazzo abbiamo in mano? Boh È morto, mi sa Minchia Beccato la cosa in pancia Tutti appestati sono Qual è stato dove siamo usciti? No Non credo sia là sopra Sicuro Vabbè, gli appestati li uccidiamo come niente Cioè, non fanno un cazzo Ok, qua c'è il filo spinato Perché è sta musica? Non lo so Perché ci hanno visto che è appestato No, scende, non scende No, no, mi sto un po' sporgendo per fare questo Continuo a salire Sali, sai Ma è un attimo No, ok Ok Bene Io ti direi Forse ho di salire un altro po' Più in alto andiamo Salire un altro po' Perché da qua non ci arriviamo Minchia Perfetto No, non può Dobbiamo andare là Ah, ottimo Scendi, scendi No, no, no Che mi faccio male Troppo Rifu Raffinerie Facoltativo e Accentivo del Mestiere Ah, ma era facoltativo Aspetta, non è entrato Certo, è facoltativo per il nostro equipaggiamento Però che farò lo prendiamo Tutte le trasporti di là? Ovviamente possiamo salire normalmente, forse Ci sono le scale? Non credo Tutte le trasporti di là Dovremmo andare qua Eh E non è che ci fa arrivare Salto Ah, sì, sì Che culo Bello lontano è arrivato Minchia Minchia Cazzo L'avevo preso Mi curo Sì Ok, dai Da qua, da qua Non sale Minchia Ma com'è possibile? Scusa Salve, avanza, avanza Eh, guarda Fammi guardare giù Ah, ok No, ma non è possibile Guarda qua Allontanati un po', fermati No, ma non è possibile Non è possibile comunque che non c'è di Andiamoci via a terra Tu se ne hai fatti io a pestare No, ma dobbiamo salire È la sopra È la sopra Ma quando l'ha tirato la verigetta? Eh, ma è la sopra Non so da dove dobbiamo entrare Magari è chiuso di là Ma è strano Cazzo Ma non può cazzo arrampicarsi come le persone normali Cazzo ci vuole Io direi di andare via terra Eh, non possiamo Scusa Non andiamo Cioè, via via terra acqua Ah, che cazzo è Cazzo, bucciana Teletransporti Teletransporti No, no, no Avanti Non sopra Avanti Teletransporti Calma, calma 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 Siamo morti Sì, se non abbiamo pozioni È bello che non sono abbassato Non posso correre più Eh, facci Teletransporti Ma avanti Ci sarà qualche cosa No Ma avanti Ok, fermati Vediamo Ma non tanti Ma non tanti Eh, no Ah, dici che è così po' Ma avanti Non devo entrare qua dentro No, e sei arrivato dove siamo diventati noi? Eh, qua non andiamo dove eravamo prima Ma, in teoria c'è sta zona, a quanto pare Capito? Guarda Eh, già siamo più in alto No No, eravamo dove eravamo prima No, no, no Torniamo indietro e saliamo su quel palazzo Da qua E fa avanti È un casino però Madonna mia Cazzo, estro No, ma ci vuole E se troviamo tipo l'olio Scusa, ma Ma non è un ascensore Infatti Ci vuole l'olio Da qua Va, trovalo È una mappa Ah, qua sono cose Vai qua dentro Sarà qua per forza Cos'era quella cosa rossa? La zona, dico Eccolo Eccolo l'olio Ma si può prendere? È pieno di cose È pieno di... No, non si può prendere Io ti devo prendere, via Te le trasportati Non puoi? Sì, devi saltare Merda Non ti potete esasportare? Minchia Datti un'occhia da là Eh sì Doviamo salire Dai, vai Salta qua Salta No, no Salta, non esplode Siamo nella merda Essere veloce Vi corri Ok Questo serbatoio è vuoto Che cazzo dobbiamo prendere? Cazzo Vai, vai, vai Dobbiamo trovare la soluzione Cioè, o c'è qualcuno O si possono ammazzare sti cosi E come? Non abbiamo... Non ce n'è uno pieno Non ce n'è Non è che dobbiamo pure riempirli addirittura, no? Ti prego Non devi salire Puttana, va avanti Va avanti Esci, esci da qua Esci da qua Anch'io cacchio volevo i miei attrezzi Però ho capito Quassù Sul tetto di sette... Ah, ti chiamo Ah, era spuntato A destra, a destra, no Su questo appiglio Sì, dai Dai, no Cazzo Fermati Con calma Con calma Fammi andare su questa piazzuola Qua, su questa grata, dai Te la trasportati Ok Eh, qua sopra forse Qua sopra, qua sopra Qua Attento però Vai Ora qua No No Girati di spalle No No Ok Sì, sì Mi sembrava una pozione Beh, dove stiamo andando? Non lo so, però Salva una partita Bravo Madonna ragazzi Allora, è diventata una puntata Diciamo scalare le montagne Mamma mia Che palle, dai Scalare le pareti Veloce, veloce Ok Oh, saliamo qui Ma non credo No, entriamo Entriamo Non voglio cadere Non voglio cadere Te la trasportati Dove stiamo andando Aspetta Dove è la freccetta? Le stiamo andando in poste Tipo che manco Sono tipo Inchiato Non è che dobbiamo Scusa qua Scendi Perché dovrebbe tornare qui? Ah, ah Che palle Controlliamo le prove Dai tutti lo metri Bene Non mi dire Facendo così Almeno lo isoleremo al passaggio Aspetta C'è una catena Alla, vai C'è una catena Ah, ah Ok, puoi salire Puoi salire Però poi ora Non so dove sono le guardie Minchia, uccidiamole Rallenta il tempo C'è il L'isir Sì Rallenta il tempo Perfetto Vai avanti Vadoo cadere giù Perfetto Molto C'è un Eh, l'altro Non entra Ok Vedi Jay Minchia C'è un altro Trovo un modo Ma ancora dobbiamo entrare Com'è che sei aggiornato? No No Come? Non lo so Come un cazzo di colpo Ma come ho pochissima vita Ah, ho salvato la partita Ah, ottimo Ma vedi Già siamo qua ragazzi Attenzione Aiuto Ok, dai Rallenta il tempo Rallenta il tempo C'è bisogno Alla Vabbè Alla Che cazzo sto dicendo Catena alimentare Mi ho uccido tutti Prendi Ah, no, non lascia Prendi Vabbè, io lo sai che sono fissato Prendi al tempo Un meno uno No, no Stacchiamo l'episodio Stacchiamo l'episodio Stacchiamo l'episodio Salva la partita Altro olio no ragazzi Non ci voglio credere Nel prossimo episodio Faremo tutto quello che c'è da fare Sperando di riuscirci Sperando Di riuscirci A prendere sia le munizioni Che fare la missione Quindi se il video vi è piaciuto Pollice in su Comentate quando vi vedete E ci vediamo al prossimo video Ciao Ciao